Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mattus e oggi sono tornato finalmente per portarvi un nuovissimo video dopo due settimane di assenza per via delle vacanze Oggi sono qui per portarvi appunto delle news riguardanti FIFA 16 La news più importante che appunto sta girando in questi giorni che si è venuta a sapere ovviamente è l'uscita di una nuova modalità in FIFA Ultimate Team, ovvero Foot Draft Foot Draft è appunto una nuova modalità che troveremo su FIFA 16 Avremo la possibilità di testare la nostra abilità nel comporre una squadra Di volta in volta dovremo scegliere tra 5 giocatori selezionati dal gioco e dopodiché dovremo sfidare i nostri avversari cercando di vincere appunto delle sfide Come funziona Foot Draft? Allora praticamente inizieremo cominciando scegliendo tra 5 differenti formazioni La formazione che andremo a scegliere non può essere cambiata nel corso della modalità del torneo E appunto deve essere sempre la stessa Dopo aver scelto la formazione dovremo scegliere il capitano della nostra formazione Scegliendo tra 5 giocatori che ci verranno appunto dati dallo stesso gioco Dopo fatto ciò dovremo scegliere diciamo un giocatore tra 5 opzioni per ogni ruolo della nostra formazione Ad esempio andremo a mettere un ATT nella nostra formazione Andremo appunto a ricercare gli ATT disponibili e ci compariranno 5 attaccanti diversi E quindi andremo a scegliere un giocatore per ogni ruolo Dopo fatto ciò appunto dovremo andare avanti ovvero dovremo giocare e superare 4 sfide differenti Si potrà giocare sia offline che offline ovviamente E ogni vittoria porterà premi, crediti, pacchetti e tanto altro Ovviamente questa modalità non è gratis Ovvero dovrete pagare 15.000 crediti o 300 FIFA Points per partecipare Oltre a queste due modalità di pagamento ci sarà anche una terza Ovvero una specie di bonus che uscirà dai pacchetti Ovviamente lì ha dichiarato che anche se perderemo al primo match della serie Riceveremo un regalo che corrisponderà alla tassa d'entrata Più andrà avanti più guadagnerà dalle sfide Quindi ovviamente è una specie di modalità che quasi sicuramente vi permetterà di fare crediti in modo rapido e veloce Questo video appunto era un video di informazione Regalo sto caricando dal telefono Cioè regalo sto registrando Cioè tutto dal telefono Proprio perché sono in vacanza e non ho la possibilità di utilizzare il computer Ringrazio appunto tutti voi per il supporto Perché comunque siamo arrivati a 300 iscritti Quindi grazie, grazie davvero Prima di lasciarvi voglio ricordare di lasciare un like Se vi sono stato d'aiuto e se avete capito bene cosa consiste questa modalità Cioè regalo se vi sono stato d'aiuto lasciate un like importantissimo Io direi che ci possiamo beccare ad un prossimo video Bella ragazzi